Tu l'ultima volta che sei stato qua eri ancora una firma del Corriere della Sera, adesso non lo sei più. Che è successo? Da dieci giorni. Eh? Sono andato in pensione. Ma ci sei andato come dire spontaneamente o spintaneamente? Sono andato in pensione perché ho compiuto 65 anni, sono stato collocato in pensione, giusta legge, e non ho intrattenuto oltre la pensione un rapporto di collaborazione col Corriere della Sera. Ah, però lei è infiocchettata questa risposta, però se si legge l'articolo di addio, diciamo, che ha scritto il 16 ottobre, ha ringraziato tutti i direttori, ma si è fermato come Cristo a Eboli. Non ho ringraziato il presente direttore. Eh, perché ti ha messo fuori? No, lui non mi ha messo fuori, non l'ho ringraziato perché, posso ripetere la risposta che ho dato a un'intervista che mi è stata fatta a questo riguardo, perché è una persona così scadente che persino il non nominarlo è fargli onore. Ecco.